l'ecologia non ci capisci che è? la green economy che dè? ma ti pensai niente? la green economy no siamo niente del fogno siamo niente dertan non ci mun Bernardino come puoi? ti capito seconda scoperto il tutto tutto di me è niente Non potessi ascoltare perché è tutto coso sottoposto a Vigola. O Vigola? Che è? Si trasi con uno all'anno. All'anno? Per il controllo. No, perché noi ammo per noi. No? Che cosa avete? Ammo per noi? Il muro. Una bella tenda è voluta blu per il. Perché noi roba questa, la tirammo. No, no. Che giù? Ma si mette la mano qua. Ma dove c'è la mano qua? Se io voglio dimmi stare io su te, se te i suoi ci stanno facendo, però devi vedere. Ma te lì che a te tirai il tuo cuore avviso a terra, tirai. Giù! Voi siete alla vicina della casa. Lei è una persona profonda. Si tira avanti. Ma perché non l'hai incontrato lei prima? No, non lo so. Tutti mi dico, io che posso fare? Parlare. Non sono tanto brava a parlare. No. Lei parla benissimo. Signora o signorina? Signorina! Mi prende una cosa. Ti ho appena fattito, ti ho appena fattito. Non mi sento mai fattito. Però non mi sento mai fattito. Non mi sento mai fattito. Oh no! Ma chi lo sento? Ti ho appena fattito, ti ho appena fattito. Ti puo sembrare una follia ma non è così. No, io sono un'ingenua Sente, ti voglio fare una proposta Non dirmi niente Sì, è vero che il tempo ci rincorre Oggi sono questa faccia, questa carne e queste ossa Ne sento ancora addosso le tue mani Che mi spostano qui là Dove si vive solo di uno sguardo È tardi, si spette la candela È sempre troppo tardi Perché non tornerà